L'impianto di lubrificazione del motore, di cui alcune cose sono chieste nei quiz e di cui possono farvi qualche domanda nella prima parte, cioè interrogazione orale, dell'esame di guida pratica. Allora, siccome la manutenzione è una delle cose importanti, manutenzione del veicolo, che può essere chiesta durante l'esame di guida, quello che non vi chiedono nei quiz ve lo potrebbero chiedere appunto prima della parte di guida pratica, cioè delle manovre, della guida nel traffico, durante l'interrogazione orale. Allora, vediamo le cose essenziali della lubrificazione del motore. Il motore è fatto di parti meccaniche che si muovono a contatto fra di loro. Quindi pistoni che salgono e scendono nei cilindri, l'albero motore che serve a, diciamo così, trasmettere il movimento rotatorio alle ruote motrici per spingere il veicolo. E poi ci sono tanti altri meccanismi di cui adesso non sto a parlarvi perché tanto non sono chiesti nei quiz, che sono comunque di metallo. Quindi quando il motore è in funzione, tutti questi meccanismi metallici lavorano a contatto reciproco e quindi si produce dell'attrito. L'attrito produce calore, il calore surriscalda i metalli, li fa dilattare e se non ci fosse qualcosa che li lubrifica, ben presto si ingripperebbero tutti questi organi metallici e quindi si bloccherebbe il motore. Quindi si danneggerebbe in modo irreparabile. Allora, noi abbiamo bisogno durante il funzionamento del motore di rivestire, spalmare un velo d'olio su tutte queste parti metalliche in modo che la frizione fra le varie parti sia ridotta al minimo. E questo è l'olio lubrificante. L'olio lubrificante è contenuto nella coppa che è questa chiusura inferiore del motore. Poi abbiamo degli altri organi che servono a pescare l'olio lubrificante dalla coppa e inviarlo in pressione all'interno di una serie di canaletti che vedete qui che lo porteranno a lubrificare tutti questi meccanismi durante il funzionamento del motore. Quindi gli organi dell'impianto di lubrificazione sono un filtro metallico a rete che trattiene le impurità più grosse dell'olio. Poi abbiamo una pompa che è un compressore, cioè praticamente aspira l'olio dalla coppa e lo invia in pressione in tutte queste piccole tubazioni in modo che arrivi a tutti gli organi per lubrificarli. Un filtro a cartuccia di cui vedremo tra poco l'ingrandimento che trattiene le impurità più piccole e che è intercambiabile. E poi questa serie di canaletti che portano l'olio lubrificante a tutte le parti del motore. Poi come vedete qui abbiamo anche un indicatore della pressione, non c'è in tutti i veicoli, normalmente esiste come vedremo tra poco una spia di colore rosso che come sappiamo tutte le spie di colore rosso indicano un'emergenza immediata, quindi un pericolo immediato, quando si accende tra poco vi spiegherò che cosa dobbiamo fare. L'importante è ricordarsi che quindi questo olio pescato dalla coppa va mandato in pressione, cioè deve essere pompato dal basso verso l'alto, insomma è un po' come il nostro cuore, pompa il sangue in tutte le parti del nostro corpo, sia quelle sotto il cuore sia quelle sopra il cuore come il cervello. E' la stessa cosa anche qua, quindi abbiamo una pressione di circolazione dell'olio che deve essere mantenuta a un certo livello perché l'olio possa arrivare a tutte queste parti del motore, ok? Vediamo un attimino prima di passare a spiegare cosa succede se questa pressione è troppo bassa o manca, il filtro dell'olio che è questo. Ci sono dei quiz che ne parlano, che lo chiedono, semplicemente tra le manutenzioni andrà periodicamente controllato anche il grado, diciamo, di sporcizia di questo filtro e periodicamente andrà cambiato. Quindi quando farete cambiare l'olio al meccanico, gli farete anche controllare se va cambiato il filtro dell'olio perché quando è troppo sporco non filtrerebbe più e quindi la lubrificazione non sarebbe più, diciamo, ottimale. Quindi periodicamente andrà cambiato. Andiamo a vedere un attimino la spia di cui parlavamo prima. Questa spia rossa è molto importante, è chiesta nei quiz, ma ve la possono anche chiedere all'esame di vita pratica. Nei quiz è raffigurata come proprio una spia che ha il simbolo dell'oliatore in nero sul fondo rosso, ma nei veicoli recenti troverete in realtà che il simbolo dell'oliatore è di colore rosso, lui insomma non è un po' invertito, no? La colorazione. Però insomma lo troverete sempre con questa particolare raffigurazione. Che cosa ci indica questa spia cololiatore? Questa spia cololiatore non deve mai accendersi quando noi stiamo viaggiando, cioè quando il motore è in movimento, perché se si accende vuol dire che non c'è sufficiente pressione di circolazione dell'olio e quindi la lubrificazione o manca o è insufficiente. Dobbiamo immediatamente fermarci e arrestare il motore perché sennò il motore si danneggia rapidissimamente. Quindi alla domanda dell'esaminatore o nei quiz o entrambe, che cosa significa questa spia rossa? Significa quando si accende che manca una pressione sufficiente di circolazione dell'olio. Attenzione che la spia non segnala la quantità dell'olio nella coppa, cioè non segnala la mancanza di olio nella coppa, che è un'altra cosa, cioè magari la coppa è anche piena d'olio, ma può darsi che ci sia il filtro intasato oppure non funziona la pompa e quindi anche se la coppa è piena d'olio ma l'olio non viene pompato, l'equivalente, insomma come risultato, è che non c'è la lubrificazione. Mi raccomando state attenti perché è una delle domande classiche su cui all'esame si sbaglia. Quindi non segnala la quantità di olio o la mancanza di olio nella coppa, ma segnala la mancanza di pressione di circolazione dell'olio. Adesso andiamo a vedere invece la quantità dell'olio come si verifica. Anche questa ve la possono chiedere nell'esame di guida pratica. Vi fanno sollevare il cofano, vi fanno misurare la quantità dell'olio. Si fa in questo modo, c'è un'astina che vedete qua inserita nel motore, quindi è infilata dentro, voi dovrete sapere naturalmente perché l'avrete visto prima insieme a tutte le altre varie manutenzioni che poi vi potrebbero chiedere all'esame, dove è collocata nel vostro motore questa astina, muniti di guanti e di uno straccio a motore naturalmente fermo, fermo nel senso di a freddo, cioè prima di iniziare la marcia, perché la quantità di questo olio va misurata col motore freddo, non quando il motore si è riscaldato, abbiamo viaggiato, perché una parte di questo olio che è molto viscoso non è ancora rigocciolato nella coppa, quindi è fondamentale che la misurazione venga fatta prima di iniziare la marcia a motore freddo. Toglierete l'astina, la pulirete, perché sarà tutta sporca d'olio, e vedrete che questa astina in fondo ha due tacche molto vicine, una di massimo e una di minimo. La reintrodurrete e la seconda volta che la estraete misurerete il livello effettivo dell'olio, che naturalmente deve essere preferibilmente vicino al massimo, non deve essere mai sopra il massimo, non deve essere mai assolutamente sotto il minimo, sarebbe bene che sia sempre vicino al massimo, perché questo livello così efficiente dell'olio, vicino al massimo, perché avere una buona quantità di olio nella coppa, andiamo un attimino ancora alla figura iniziale, cioè la coppa ben piena d'olio, ci garantisce un raffreddamento rapido dell'olio bollente che è stato aspirato, mandato a lubrificare, ed è rigocciolato nella coppa. Allora l'olio ha una certa densità, una certa viscosità, che viene persa perché si fluidifica a contatto con le alte temperature che ci sono dove viene bruciato il carburante nei cilindri, quindi perde la propria capacità lubrificante diventando troppo fluido, deve riacquistarla in fretta la densità che aveva prima, per riacquistarla in fretta deve raffreddarsi in fretta, quindi gocciolando nella coppa deve trovare una bella massa di olio freddo in cui raffreddarsi rapidamente, ritornare, diciamo, riappropriarsi delle sue qualità lubrificante, la sua viscosità originaria, per poi ritornare ancora in circolo. O, periodicamente, secondo le indicazioni della casa sottotrice, ma direi più che altro secondo delle verifiche, secondo delle verifiche, che dovremo fare visivamente, dobbiamo cambiare l'olio e si cambia aprendo la valvola di scolo sotto il motore, va fatto naturalmente da un meccanico, perché l'olio cosiddetto esausto, cioè che ormai è troppo sporco, ha perso le qualità lubrificanti, deve gocciolare dalla coppa, quindi scolare tutto dal basso, e poi quando la coppa sarà proprio svuotata, quindi tutte le morchie, cioè questi depositi, delle bruciature dell'olio, insomma di questo olio che ormai è troppo sporco, si sono tutte fermate in fondo alla coppa, devono essere smaltite attraverso questo scarico, in modo che poi quando rimetteremo, il meccanico rimetterà dal tappo del motore l'olio nuovo, non ci siano dei depositi vecchi in fondo alla coppa, quindi è importante verificare che il meccanico ci faccia un buon lavoro, e che sollevi, diciamo così, su questo elevatore il veicolo, e faccia il cambio dell'olio dal basso, e non risucchiandolo attraverso una pompa dal tappo, perché se no tutti i depositi rimangono in fondo. L'olio esausto va correttamente smaltito presso il consorzio degli oli usati e non disperso nell'ambiente perché è altamente inquinante, oltretutto è anche molto pericoloso a contatto con la pelle. Ricordatevi che per terminare tutta questa piccola spiegazione, esistono diversi tipi di oli, l'olio nel nostro clima mediterraneo normalmente usato è quello multigrado, che può essere usato fino a una certa temperatura sopra lo zero, fino a una certa temperatura sotto lo zero, che va bene insomma nel nostro clima mediterraneo in Italia. Poi ci sono gli oli stagionali, che però non vanno mescolati fra di loro e nemmeno con l'olio multigrado, che si chiama multigrado perché va bene sia nei mesi freddi sia nei mesi caldi, gli oli stagionali sono quelli per i climi particolari, quindi se cambiate clima dovete anche proprio svuotare la coppa e mettere un altro tipo d'olio. L'olio più fluido va bene per i climi rigidi, con basse temperature sotto lo zero, l'olio più denso va bene per i climi invece più caldi, con alte temperature sopra lo zero, non vanno mai mescolati insieme.